Allora, siamo qui all'inizio del DF Expo a Milano, proprio alle prime battute. Diamo il benvenuto qui a Jonathan Sigoli, che è l'organizzatore con la sua professione finanza. Allora, Sigoli, cosa ci dobbiamo aspettare dall'evento di queste aule? Beh, aspettative molto alte. Già dalle prime battute sono molto contento. Finalmente si è smaltita la coda in apertura. Già tutte le prime aule sono cominciate e quindi i primi temi iniziano a portare i loro frutti. Sicuramente la giornata andrà avanti con altri special guest, con altri approfondimenti. E quindi mi auguro ovviamente sia un momento, una giornata di pura formazione nel quale migliorare ancora di più, qualora ce ne fosse ancora bisogno, le competenze di ogni singolo professionista della finanza. Quali sono gli eventi più importanti di oggi? Beh, assolutamente abbiamo dedicato un'intera aula ed è, penso, la prima volta che si fa una tavola rotonda di tutta una giornata con tre importanti docenti universitari, De Masi, Panizza e Pelanda, che parleranno di quali sono gli scenari macroeconomici futuri, ma anche attuali, visto quella che è la situazione dei mercati, in tutte quelle che sono le aree del mondo. Stiamo parlando in questo momento di Asia, parleremo subito dopo di America, di Europa e il resto del mondo a conclusione della giornata. Oltre a questo parliamo di leadership con importanti special guest, parliamo di mercati immobiliari, parliamo di come superare le sfide, come affrontare e superare ovviamente le sfide. E parliamo, il mio fiore all'occhiello non può che essere i cab, il robottino, che sicuramente avete già visto da mille parti, che è qua presente alla fiera e sta stringendo mani ai vari professionisti della finanza e quindi sono molto contento. Quali saranno gli occhi di una special guest di oggi? Le special guest di oggi? Abbiamo avuto una difezione all'ultimo secondo di Giulio Velasco, ma ci sarà Dan Peterson a sostituirlo, quindi assolutamente altro autorevole testimonian nel parlare di leadership, c'è ovviamente Demasi, Panizze e Pelanda, docenti universitari, Demasi, noto sociologo, Panizze e Pelanda, insegnano Oxford e l'Università di Ginevra, macroeconomisti. Parleremo con Enzo Miccio di Come ti investi, è caso strano uno dei primi corsi che è andato sold out, con Paola Marella di Mercato Immobiliare e con Antonio Nibali e Alberto Cavesin, quindi due sportivi molto importanti di come affrontare e superare le proprie sfide. Grazie a voi, vi aspetto nel pomeriggio ovviamente. A presto!